Ricordare la figura di un caro amico come Giulio Bianchi, celebrare pubblicamente i 40 anni di attività sul territorio. Il Centro Aiuto alla Vita, movimento per la vita di Belluno, di cui Bianchi è stato uno dei fondatori, ha inteso conseguire tale duplice obiettivo con l'aiuto di differenti altre realtà, dando vita alla mostra ospitata Palazzo Bembo, incentrata sulla figura di Jérôme Lejeune, medico francese, genetista, che dimostrò il nesso tra la sindrome di Down e la trisomia 21. È una mostra che vuole indicare soprattutto il valore della vita umana, anche se con patologie, quindi l'importanza della cura, dell'accompagnamento e della valorizzazione della vita. Negli ultimi dieci anni, fanno sapere dall'associazione, sono state assistite nella provincia dolomitica più di 200 famiglie, contribuendo a far nascere oltre 85 bambini. Il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare le mamme che devono affrontare una gravidanza difficile o indesiderata, o quelle mamme che sono prive di mezzi o comunque non hanno le capacità per curare i propri figli. Fra passato e presente, un omaggio ad un grande medico motivato dal desiderio di poter conoscere per curare. Quella del professor Leggen è stata la prima volta in cui si è dimostrato che una precisa sintomatologia clinica potesse essere ricondotta a una precisa mutazione genetica. Di fatto con lui lascia la genetica medica moderna e lui era anche altrettanto convinto che questo avrebbe potuto portare non solo a scoperte di genetica e di base, ma a cure mediche per definire gli effetti di queste lesioni cromosomiche sul metabolismo e quindi recuperando i disturbi metabolici conseguenti recuperare una funzione normale. Questa era la sua grande speranza che ci ha trasmesso anche a noi. L'esposizione sarà liberamente fruibile fino al 22 febbraio. Il messaggio è che la vita rimane il miracolo più grande a cui assistiamo tutti i giorni.